Gabri, ci vuoi condividere invece la tua routine per avere questo pelo così lucido? Ma non hai voglia. Pozzanghere al parco. Mi sa che non ha voglia di condividere. Buongiorno, buon venerdì a tutti quanti. Ciao Chiara, buongiorno. Sempre bellissima con sto pigiamone rosa. Guardate i capelli così, un po' anni 80 con questa borsettina nera. Quanto bene sta Chiara. Veramente, lei qualsiasi taglio di capelli le mette e metti e sta benissimo. Guardate, qua sembra addirittura un po' Madonna dei miei anni. Sono tanto vecchia io qua. Valentina Ferragni, Gabri Ferragni in ufficio. Sempre Chiara, Gabri Ferragni che dà lezioni di non so cosa. Io vi lascio così. Ciao.